Gentili telespettatori, buona giornata, così Meloni incassa l'appoggio sul piano Mattei, Migranti e Intelligenza Artificiale. Allora, il piano Mattei è quel piano che dovrebbe aiutarli a casa loro, questo è il riassunto. Cos'è il piano Matteo? Non piano Matteo che era un mio amico dell'infanzia, non è il piano Matteo, ma il piano Mattei sarebbe, in riassunto dei riassunti, li aiutiamo a casa loro, il famoso aiutiamoli a casa loro. Che cavolo stai dicendo Willis? Eh sì, è il famoso aiutiamoli a casa loro, cioè piuttosto che farli venire in Europa a cercare lavoro, allora il lavoro lo facciamo lì, lo creiamo lì così loro se ne stanno a casa loro, aiutiamoli a casa loro. Il piano Mattei è questo, sviluppiamo economicamente il Nord Africa, facciamo accordi commerciali con il Nord Africa piuttosto che farli con altre parti del mondo, in modo che con le partnership si comprano prodotti da lì, piuttosto che dall'India o di chissà dove, e lì si sviluppa l'economia, assumono le persone che dovrebbero essere intenzionate a rimanere lì piuttosto che venire in Europa. Solo che il piano Mattei ha bisogno di una valanga, letteralmente una valanga di soldi. La Meloni porta a questo tema, al G7, Africa, Migranti e Intelligenza Artificiale. I primi due Africa, Migranti, praticamente uno solo. I dossier sul tavolo sono questi. Vengono menzionati 11 punti nel preambolo del documento finale, di 36 pagine. Ci stiamo impegnando con i paesi africani in uno spirito di partenariato equestrategico, dice la Meloni. Con una giunta in cui i leader affermano di accogliere con favore il piano Mattei lanciato dall'Italia. Bene, però, io dico, accoglierlo con fiducia, accoglierlo con fiducia, va bene. Però ci devono mettere i soldi, perché sai, il piano Mattei non si crea a parole. Il piano Mattei si crea con i soldi. Qualcuno ha già messo i soldi, ci sono già un po' i soldi. Diciamo che il piano Mattei comprende anche quegli aiuti che l'Europa ha dato a Tunisia, Libia. Aiuti economici, soldi che alla Tunisia sono già arrivati. Infatti la Tunisia, guarda caso, da un giorno con l'altro ha quasi completamente fermato le partenze. Quindi il piano Mattei è sviluppiamo l'economia nel Nord Africa. In più, mentre sviluppiamo l'economia con dei stati volenterosi che devono apportare miliardi su miliardi, c'è anche miliardi che arrivano dall'Europa per convincere questi stati a vedere le partenze e a fermarle. I leader annunciano anche di aver lanciato la coalizione del G7 per prevenire e contrastare il traffico di migranti. E poi l'impegno che è quello di cooperare per sfruttare i vantaggi e gestire i rischi dell'intelligenza artificiale. Un piano d'azione sull'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Pertanto, al centro dei lavori ci sono stati proprio questi dossier. Nel corso della prima giornata i leader hanno espresso apprezzamento unanime per la scelta della Presidente italiana di introdurre per la prima volta il governo dei flussi migratori nei lavori del gruppo dei Sette. Per l'Italia è necessario che il G7 si faccia portavoce a livello internazionale di una strategia nuova che si sviluppa su diverse direttrici. A partire dalla lotta ai trafficanti di esseri umani che alimenta i flussi di immigrazione illegale e rappresenta una nuova forma di schiavitù. Un'altra direttrice tocca le cause della migrazione. Infine, l'ultima direttrice dell'approccio italiano riguarda l'impegno per ripristinare la legalità nel governo dei flussi migratori, anche continuando a cercare altre soluzioni, come quella contenuta nel protocollo Italia-Albania, che è un deterrente, voi sapete che in realtà non è che serve mandare lì 3.000 migranti in un anno, perché ce ne stanno 3.000, non è che ogni mese ce ne sono 3.000, questi vanno e arrivano altri, non si riesce a rimpatriare le persone in 30 giorni. Quindi l'accordo Italia-Albania non è per mandare lì 3.000 migranti, assolutamente. serve come monito a quelli che vogliono partire e pertanto il messaggio è non partite perché finite poi fuori dall'Europa, in un paese che non è Europa, e state lì in carcere un anno e mezzo. Quindi è un dissuasore questo accordo, serve per quello, non per mandare lì 3.000 persone. Questo che non ha ancora capito la sinistra, o meglio, lo ha capito ma fa finta di non averlo capito. Ah, tutti i soldi buttati, non c'è ancora niente. Fanno finta di non aver capito a che cosa serva questo accordo Italia-Albania. Adesso quello che ci vuole è che se questi grandi paesi sono d'accordo, questi grandi paesi dovrebbero evidentemente sganciare qualche euro, qualche dollaro, per far sì che questo piano Mattei cominci, perché si parla di tanti di quei miliardi che lascia sconcertati. Però, i risultati già si vedono, c'è un meno 60% sul 2023, il problema è che gli sbarchi di quest'anno sono uguali al 2022. Sul 2023 meno 60, ma sono uguali al 2022. Quindi bisogna andare avanti e cercare di riuscire a trovare una soluzione pseudo-definitiva, o parzialmente definitiva. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi anche che questi video sono poi condivisi anche in Facebook, X, LinkedIn e Triads. Arrivederci e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.